La moglie muore e la banca blocca il conto cointestato, così da quattro mesi un 86enne di Treviso non riceve più la sua legittima pensione, l'incredibile odissea, raccontate i nostri microfoni. Spresiano sotto shock per la morte di una diciassettenne trovata senza vita ai giardini della Biennale, la sparita di casa per mezza giornata, si tratterebbe di un gesto estremo. Il difensore del 36enne che ha massacrato Adriano Armelin contesta l'aggravamento dell'accusa passata a omicidio volontario, pronto dice a rivolgermi al tribunale del riesame, domani intanto l'interrogatorio di garanzia. In camera nascondeva ecstasy, ketamina, cocaina e marijuana, insospettabile studente di Ciannovenner è stato dai carabinieri a Treviso dopo un controllo. Nel 2017 era stato radiato per le sue posizioni contro i vaccini, il cardiologo trevigiano Roberto Gava vince il ricorso in Cassazione perché la commissione che decise la punizione era composta da quattro membri e non cinque. In quest'ora l'ufficialità della nomina come nuovo direttore generale della Sanità Veneta al posto di Luciano Flor è il 65enne Massimo Annichiarico che ha guidato fino ad oggi la Sanità del Lazio. Potrebbe svolgersi il 12 febbraio il congresso per l'elezione del nuovo segretario provinciale della Lega, l'appuntamento sempre più atteso dai militanti. Treviso casa del rugby under 20 che inizia venerdì il suo torneo 6 in azione, lo stadio di Monigo in futuro potrebbe vedere la capienza aumentata fino a 10.000 posti. Telespettatori di Antena 3, buonasera, ben ritrovati con il telegiornale di Treviso. Dunque in primo piano l'avete visto e sentito dai titoli una vicenda che ha dell'incredibile. La storia di un 86enne trevigiano, gli è morta la moglie da qualche mese, la banca ha bloccato il conto che era cointestato così. Da quattro mesi l'uomo non riceve più la sua legittima pensione. Ha raccontato insieme alla figlia ai nostri microfoni questa odissea. Noi ci siamo rivolti appunto ad Antena 3 per portare a conoscenza il fatto che sta succedendo nella speranza che qualcuno ci possa aiutare. La storia di questa famiglia trevigiana ha dell'incredibile. Lui, 86 anni, è un conto in banca cointestato con la moglie. L'unica fonte di reddito dei coniugi è la sua pensione. La moglie purtroppo muore qualche mese fa, la banca blocca immediatamente il conto, pare sia una procedura standard. La tragedia inizia qui, l'anziano chiede di poter ricevere la pensione, la banca per un po' consente, poi blocca tutto. E così da mesi lui non ha più nulla. La famiglia, anche tramite un avvocato che sta cercando di aiutarli, bussa a tutte le porte. Niente, nessuno risponde. E questo trevigiano, che non può aprire un altro conto per motivi burocratici, diventa sempre più povero. Noi ci siamo rivolti a tutte le istituzioni a cui potevamo rivolgersi, naturalmente in primis la banca, che ha bloccato il conto, l'Inps, le poste, abbiamo scritto dappertutto, però non abbiamo ricevuto risposta da nessuno. La rabbia cresce, difficile accettare, sembra tutto così assurdo. Noi siamo molto arrabbiati perché ritengo che non sia giusto che una persona di 86 anni venga privata del diritto di percepire la sua pensione, che gli spetta, perché è l'unica fonte di sostentamento che mio padre ha. Intanto le bollette si accumulano. Acqua, luce e gas a rischio interruzione. Lo stress è forte, l'uomo è cardiopatico e questa situazione non aiuta e si sente un cittadino di serie B. Non si sente proprio considerato come cittadino perché hanno, a mio parere, calpestato i suoi diritti, insomma, l'hanno proprio annullato come persona. Andare a chiedere quello che ti spetta e nessuno ti considera è la peggior cosa che possa succedere. Seguiremo allora questa vicenda anche nei suoi sviluppi. Intanto la tragedia terribile che ha colpito la comunità di Spresiano per la morte di una 17enne trovata senza vita ieri nella zona dei giardini della Biennale a Venezia. La morte che ha scioccato davvero la comunità. La ragazza si era allontanata di casa il lunedì sera ed è stata trovata priva di vita il giorno dopo ieri. Una tragica fine con ogni probabilità dovuta a un gesto estremo che sta scuotendo Spresiano e ha travolto ovviamente la famiglia della ragazza. E adesso il massacro di Pieve di Soligo. La morte di Adriano Armellin perché domani è previsto l'interrogatorio di garanzia per il 36enne marocchino accusato dell'omicidio. Intanto parla il suo legale. Posso capire emotivamente tutto quanto ma secondo me adesso l'impusazione è sovradimensionale. Non ci sta l'avvocato Filippo Vigiano legale di Mohamed Boumarouan, il 36enne marocchino accusato di omicidio volontario aggravato dalla finalità della rapina che non esclude un altro passo. Non so se faremo ricorso al simulare della libertà. Questa è solo una possibilità, tiene a precisare il legale, il cui assistito ora rischia l'ergastolo. Ma spiegare la motivazione che ha portato il pubblico ministero a questa nuova contestazione è il capo della procura di Treviso, Marco Martani. 29 lesioni contusive esterne dimostrano un particolare accanimento nei confronti della vittima che è stata colpita almeno con due diversi corpi contondenti che è incompatibile con la non volontarietà dell'esito finale della morte. Fra le aggravanti contestate quelle della crudeltà. L'aggravanti della crudeltà in particolare è stata contestata perché appunto queste 29 lesioni inferte su una persona di 82 anni legata, le gambe parzialmente legato, sono sicuramente modalità crudeli per compiere un atto che è comunque un atto efferato come l'omicidio. Diversa la posizione della difesa secondo la quale ci sarebbero delle attenuanti. Guardi che se uno è come era, ubriaco, se uno ha assunto stupepacenti eccetera, cioè dedurre poi che dalla pluralità dei colpi la volontà omicida si potrebbero fare tante obiezioni. Immediata la risposta del capo della procura. Sono aggravanti per le quali è previsto l'ergastolo. Poi chiaramente questo non sempre consegue l'ergastolo perché potrebbero in giudizio emergere anche delle attenuanti, attenuanti che io per il momento sinceramente non riesco a vedere. Domani dunque l'interrogatorio di garanzia nel pomeriggio. Adesso l'operazione antidroga dei carabinieri che hanno arrestato uno studente universitario di 19 anni nella sua camera ha trovato un emporio della droga. Marihuana e chetamina in tasca pronte per essere smerciate mentre in casa nascondeva un emporio della droga a finire nei guai uno studente trevigiano di 19 anni che nella serata di lunedì scorso è stato arrestato per spaccio di sostanze stupefacenti dai carabinieri del nucleo radiomobile di Treviso. Erano appena alle 21 e 30 quando una gazzella dei carabinieri mentre percorreva via Dandolo ha notato il 19enne in bicicletta effettuare una manovra improvvisa per evitare di incrociarli. Il giovane però non aveva pensato di destare sospetti alla pattuglia che ha pensato bene di inseguirlo fino ad intercettarlo abilmente nella vicina via Pietro Bembo. Il fermo ha creato al giovane uno stato di agitazione che ha fin da subito avvalorato l'ipotesi ai militari che qualcosa di strano poteva esserci. Inevitabile a quel punto una prima ispezione personale che ha permesso di rinvenire nascosti nella tasca del giubbotto un pezzo di marijuana e della chetamina oltre a un contenitore metallico porta tabacco contenente denaro contante di diverso taglio per oltre 200 euro. I militari hanno deciso a quel punto di effettuare una perquisizione anche nella sua abitazione. Nella sua cameretta è stata trovata altra droga, marijuana, ashish, MDMA, ecstasy, cocaina e chetamina nonché ulteriore contante, dei bilancini di precisione per la pesatura delle dosi ed un rotolo di pellicola per il confezionamento. Il 19enne ora si trova agli arresti domiciliari e a disposizione dell'autorità giudiziaria. Hanno invece tra i 20 e i 22 anni i tre giovani che hanno imbrattato con lo spray il sottopasso di Viale e Brigata Marche a Treviso ma sono stati subito individuati dagli agenti della polizia locale e denunciati. È successo lunedì intorno alle 14.30. I tre sono stati visti in azione da un residente che transitava in zona e che ha allertato la centrale operativa. Carico dei ventenni è stato aperto un fascicolo penale per imbrattamento di edifici e strutture pubbliche. E poi di nuovo a Montebelluna gli strascichi della violenta rissa con accoltelamento di sabato scorso in città la tensione resta alta. È una situazione che si unisce a tante altre che negli ultimi mesi hanno avuto oggetto la nostra città. Una città serena che non ha mai avuto vicende di questo tipo ma che purtroppo deve fare i conti con una crescente escalation di violenza e di tepismo. A Montebelluna è da tempo che si succedono scontri fra minori oltre a furti e danni a negozi e bar. Residenti ed esercenti sono preoccupati per il clima di tensione in continua crescita. Ultimo episodio di violenza, l'aggressione in pieno giorno nei pressi della stazione nei confronti della sorella del 18enne di origine albanese accoltellato sabato scorso nella rissa fra gang in piazza Marconi. Offese, spintoni e schiaffi, la donna è stata aggredita da un giovane magrebino in compagnia di alcune amiche. Dopo che la donna aveva segnalato alle forze dell'ordine il giovane come presunto componente della gang che ha mandato in ospedale il fratello. Con un'amica e il figlio di appena otto mesi, la giovane mamma è riuscita a individuare il presunto componente del branco grazie alle informazioni avute da alcuni amici in un parchetto vicino alla stazione. Segnalato ad una pattuglia dei carabinieri di passaggio, tutto il gruppetto è stato identificato dai militari per le indagini del caso ma una volta che i militari se ne sono andati l'hanno subito accerchiata e aggredita. Il gruppetto ha deciso di fuggire solo quando le due amiche hanno iniziato a duglare per cercare aiuto. Sotto shock le due donne e il bambino si sono poi recate in stazione dei carabinieri per formalizzare una denuncia per aggressione. Le forze dell'ordine fanno il loro mestiere, lo fanno bene, le risorse che hanno sono purtroppo scarse. dobbiamo invece andare a capire perché avvengono questi fatti, cosa stiamo spagliando in termini di politiche per la famiglia e per la società. Immagini e video di carattere violento, alle volte razzisti e sessisti, che si concludono spesso con umiliazioni e diffamazioni. Per i giovani questi fenomeni di violenza sono in crescita anche per colpa di una comunicazione sbagliata nei social. Un ragazzino di 15 anni, 13 anni, cosa fa? Vede le storie, vede, è bello, lui è grande, lo fa, nessuno gli fa niente. Domani mattina lo posso fare anch'io, no? La sanità adesso, la sua era una posizione anti-vaccini ben prima dell'emergenza Covid, tanto da essere stato radiato dall'ordine dei medici di Treviso nel 2017. Ma la Cassazione ora ha cancellato la sentenza di 5 anni fa della Commissione Centrale per gli Esercenti e le Professioni Sanitarie nei confronti del cardiologo trevigiano Roberto Gava. Decisione annullata per un vizio di forma. La Commissione doveva essere infatti composta da almeno 5 membri, ma la decisione era stata presa da 4 membri, Presidente e 3 giudici. Nel 2017 il procedimento fu aperto a seguito della pubblicazione di note giornalistiche, divulgazione di notizie sui social network e pubblicazioni varie, che si riteleva costituissero una propaganda contro le vaccinazioni pediatriche, in contrasto con le indicazioni nazionali ed internazionali, nonché con le disposizioni del Servizio Sanitario Nazionale e le direttive regionali. Nel 2020 la Commissione per gli Esercenti e le Professioni Sanitarie confermò la radiazione, adesso con la decisione della Cassazione il fascicolo è stato rimandato alla stessa Commissione, che dovrà riesaminare la vicenda. Intanto, sempre sul fronte sanitario, un'importante nomina è arrivata l'ufficialità di un nome che era già nell'aria per il ruolo di nuovo direttore generale dell'area Sanità e Sociale della Regione del Veneto, che prenderà il posto di Luciano Flor in pensione dal 30 dicembre. Si tratta di Massimo Anni Chiarico, medico nato nel 1958 a Taranto, 65 anni, si è laureato all'Università degli Studi di Bologna con il massimo dei voti e la lode. Sempre con l'ode si è specializzato in medicina interna e in cardiologia. Fino ad oggi ha ricoperto l'incarico di direttore regionale della Direzione Salute e Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio. E sul fronte sanità nasce un coordinamento di amministratori di nove comuni dell'area del Montebellunese preoccupati per le carenze della sanità nel territorio e soprattutto degli ospedali di Montebelluna. E' già pronta una mozione. A Crocetta abbiamo annunciato la nascita di un coordinamento composto da 31 consiglieri impegnati in nove comuni sul tema della difesa della sanità pubblica territoriale. Cairano, Cornuda, Crocetta, Giavera, Montebelluna, Nervesa, Pederoba, Valdobiadene e Volpago. Sono i nove comuni del distretto sanitario di Asolo in cui sono attivi i consiglieri di liste civiche che hanno dato vita al coordinamento finalizzato a portare avanti nei rispettivi consigli comunali interventi di salvaguardia della sanità e di informazione della cittadinanza. Primo passo una mozione che sarà presentata a tutte le assemblee municipali. Pone alcuni temi. Uno, la mancanza di medici di medicina generale, la mancanza di medici in determinati reparti dell'ospedale San Valentino di Montebelluna, la carenza di infermieri e inoltre abbiamo posto il tema delle future case di comunità. Con questa mozione chiediamo ai sindaci di farsi carico di questi problemi e di porli in conferenza di sindaci, che è quell'assemblea dove questi problemi possono essere trattati di concerto con l'Ulss per poi trovare delle soluzioni. Un'iniziativa nata dalle continue sollecitazioni dei cittadini, sottolineano i promotori, con un focus specifico proprio sull'ospedale di Montebelluna, le prese con carenza di medici e infermieri, lunghe liste d'attesa ed esternalizzazione di molti servizi, dicono. Il gruppo di amministratori lavora già da mesi sul tema sanitario. Continuerà questo percorso con lo scopo di monitorare la situazione della sanità, al fine di informare i cittadini e portare avanti azioni all'interno dei consigli comunali. Aroparito di ospedali, torniamo alla cronaca con l'allarme nella notte nel nosocomio di Conegliano a causa di un principio di incendio che ha interessato una salita d'appoggio del reparto di terapia intensiva. Il denso fumo ha fatto scattare l'allarme, sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno rapidamente risolto la situazione. A causare il principio di incendio, forse un cortocircuito da un ventilatore polmonare in carica nella stanza utilizzata per gli isolamenti e che era fortunatamente vuota. I disagi sono stati limitati e non c'è stata la necessità di spostare i pazienti. La politica adesso perché il disegno di legge sull'autonomia differenziata delle regioni approda domani in Consiglio dei Ministri. La realizzazione di un progetto che dà corso a quello che era il progetto dei padri costituenti. Diciamo a tutti che l'autonomia che vogliamo è quella scritta in Costituzione. Il disegno di legge sull'autonomia differenziata proderà domani in Consiglio dei Ministri, esulta il presidente del Veneto Zaia che parla di giornata storica. È chiaro che l'autonomia non spacca i paesi. Se fosse così non percepiremo ad esempio la Germania come una grande nazione. La Germania ha un'autonomia che qui in Italia ce la sogniamo. Ma sul DDL, ritoccato ieri in pre-consiglio e che domani verrà discusso e probabilmente approvato a Palazzo Chigi per poi passare alla conferenza unificata, la politica si divide. Di progetto che non risponde per nulla ai principi democratici del regionalismo, come era inteso dai padri costituenti, parla Luana Zanella, capogruppo di Alleanza Verdi e Sinistra alla Camera. Per la presidente di azione Mara Carfagna, l'autonomia modello Calderoli non rispetta il dettato costituzionale, spacca l'Italia. Ma anche all'interno del PD le posizioni sono differenti tra chi boccia il progetto leghista e chi, come l'europarlamentare Achille Variati, plaudi l'autonomia purché venga risolto il nodo dei diritti civili e sociali degli italiani. Perché solo così supereremo l'ostacolo che da una buona parte dell'Italia, guardando al Veneto, guardando all'Emilia Romagna e guardando alla Lombardia, dicono ecco, questi sono gli arricchiti che si vogliono tenere i loro soldi. No, non è così. Questi sono coloro che ritengono che le funzioni, passando dallo Stato alle Regioni, a parità di risorse, forse addirittura risparmiando risorse, si daranno servizi migliori. L'importante è che la questione approdi in CDM, ribadisce il leghista Gian Antonio Dare, sottolineando la questione della responsabilità di spesa delle Regioni nelle materie in oggetto. Ci sono Regioni tra i nati, come il Veneto, come l'Emilia Romagna, come la Lombardia e quant'altro, altre purtroppo che sono in sofferenza. Nessuno lascia a piedi nessuno, però il senso di responsabilità e il senso civico su quelle che sono le risorse che vengono date e introvitate a Roma, poi devono essere distribuite sul territorio in maniera equa e soprattutto capire che quei soldi non vanno buttati via. Proprio Gian Antonio Dare è uno dei principali contestatori della Lega salviniana e che da mesi, insieme ad altri, ha chiesto che si facessero i congressi e che arrivasse soprattutto il tanto sospirato congresso di Treviso, il più atteso, anche quello con più candidati, ora una data a quanto pare c'è. L'ufficialità ancora non c'è, ma il congresso per eleggere il nuovo segretario provinciale della Lega potrebbe svolgersi il 12 febbraio, mal che vada la domenica successiva, mettendo fine al lungo e mal digerito commissariamento del Movimento, che ha avuto una sua prima resa dei conti a Sant'Andrà l'altra sera, dove tre dei quattro contendenti, Riccardo Barbisan, Dimitri Coine e Luciano Dussin, si sono confrontati a viso aperto davanti a centinaia di militanti. Unico a mancare Giuseppe Paolin, che così in diretta a Ring su Antenna 3 ha giustificato la sua assenza. Io ero impegnato, avevo una riunione che era già precedentemente fissata con la sezione di Paese. La mia è una campagna elettorale, tra virgolette, anzi neanche campagna elettorale. Quando io ho lanciato la mia proposta di eventuale candidatura, avevo dichiarato che avrei fatto il giro di tutte le sezioni. In realtà Paolin aveva già annunciato nei giorni precedenti che non avrebbe partecipato a un faccia a faccia organizzato dai sostenitori di un altro candidato alla segreteria nella fattispecie Coine. Lo stesso Barbisan aveva auspicato un confronto in sede congressuale, a riprova di quanto quel momento sia atteso e carico di significato per un partito che lo aspetta da anni, come sottolinea in maniera come sempre schietta l'eurodeputato Gian Antonio D'Aretto. Speriamo che si faccia questo congresso, che determini quantomeno una segreteria, ma soprattutto determini un segretario e un consiglio direttivo, che è quello che manca ormai da oltre tre anni. Anche perché ci sono decisioni importanti, ci sono comuni che vanno al voto, ricordiamoci che c'è Treviso per quanto ci riguarda e quindi è giusto fare questo congresso per capire e soprattutto per dare una linea guida per tutti. Pochi istanti di pubblicità, poi andremo a Venegazzù di Volpago. Rieccoci in diretta, allora come detto prima della pubblicità andiamo a Venegazzù, parliamo di viabilità, ci sono i residenti di una via che chiedono che venga realizzato una marciapiede, una corsia per le biciclette lungo una strada pericolosa. È 30 anni che aspettiamo questa opera. Via Gasparini è un tratto della Marosticana, una strada molto urbanizzata e frequentata, che collega Volpago del Montello a Montebelluna. Da anni i cittadini chiedono una messa in sicurezza del tracciato con l'inserimento di un marciapiedi. Nel tempo la via è stata spesso teatro di incidenti e anche di una certa gravità. Il rischio ora è aumentato, insieme al numero di ciclisti e pedoni. Negli ultimi tempi sembra che l'amministrazione sia intenzionata ad accontentare i residenti, sembra però che per una questione di costi il marciapiedi possa essere realizzato nel lato nord. I cittadini riguardo a questa ipotesi sono contrari e hanno raccolto 150 firme per opporsi a questa previsione. Hanno detto che vogliono farla sulla parte nord, però noi ci abbatteremo per farla sul lato sud. La cittadinanza lo vorrebbe a sud, purché poi ci sia un passaggio pedonale per arrivare ai supermercati e altri negozi che ci sono. Secondo me la strada ciclabile o è, devono farla continua da Montebelluna a Volpago, perciò la fanno verso sud. Noi battiamo sempre per farlo a parte sud, perché diamo sicurezza agli abitanti. Al progetto del comune partecipano anche la provincia con 100.000 euro e la regione con 450.000 euro. Si tratta proprio della sicurezza, perché qua c'è gente che cammina nel cilio della strada, proprio nell'erba, non a posto, cioè viene sfiorato dai tir, praticamente è pericoloso. Molesti nei confronti delle donne dopo le polemiche seguite alla Dunata Nazionale degli Alpini a Rimini e vista del prossimo appuntamento a metà maggio a Udine, le penne nere lanciano una campagna di sensibilizzazione e prevenzione attraverso una pagina web. Controlemolestie.it è una nuova campagna, quella intrapresa in questi giorni dagli alpini, quella contro la violenza sulle donne. Un progetto nato sull'onda della bufera scoppiata sulle penne nere dopo la Dunata di Rimini. Anche se nessuno nega che ci possa essere stato qualcuno con un cappello alpino in testa che abbia avuto un comportamento molesto, quello che per noi è inaccettabile è che il concetto di molestia venga associato a quello dell'Associazione Nazionale degli Alpini che da più di cento anni è nota per ben altre qualità. Di qui, in vista della prossima Dunata a Udine, le penne nere giocano ad anticipo con un nuovo sito web che sgombra subito il campo da ogni equivoco. Le molestie non sono complimenti non graditi, si legge sulla home page, non sono atti di gogliardia, sono gesti malsani, apprezzamenti di natura sessuale rivolti in modo esplicito, volgare e talvolta minaccioso a una donna incontrata per strada o in un luogo pubblico non più tollerabili. Gli alpini non sono il problema, gli alpini vogliono essere parte della soluzione del problema, perché la questione delle molestie è un problema trasversale a tutta la società, non è un problema di chiunque si metta in testa un cappello alpino, anche perché gli alpini come categoria non esistono se non nell'ambito del volontariato, perché un alpino può essere un idraulico, un elettricista, un muratore, un falegname, quindi non esiste l'alpino in quanto tale, però i concetti, i valori degli alpini esistono e noi vogliamo che proprio in base a quelli si affronti questa questione che come ripeto è una questione culturale che è trasversale a tutta la società. Lo sport adesso e torniamo a Treviso, un attreviso che diventa casa dell'Italia di rugby under 20 che inizia venerdì il suo torneo 6 nazioni proprio in città e lo stadio di Monigo in futuro potrebbe vedere la capienza aumentata fino a 10.000 posti. Treviso e lo stadio Monigo sono ormai a tutti gli effetti una casa per la nazionale under 20 di rugby che sta per affrontare, come i fratelli maggiori, i 6 nazioni, il torneo più antico del mondo. Primo appuntamento venerdì 3 febbraio contro la Francia e proprio gli azzurrini l'anno scorso, grazie anche alla spinta di Monigo e dei suoi tifosi, ha ottenuto ben tre vittorie in cinque partite giocate, un risultato eccellente che quest'anno sperano di ripetere. Aspetto delle prestazioni, delle ottime prestazioni che possono poi sicuramente risultare delle partite equilibrate, competitive, sempre e poi speriamo di avere la fortuna e la bravura di centrare qualche risultato positivo. Treviso ormai punto di riferimento per il rugby anche da parte della federazione, che riconosce la grande spinta della città di Treviso, accogliente con i giocatori e con i tifosi che arrivano da fuori, quest'anno da Francia, Irlanda e Galles. Gli appuntamenti sempre al venerdì, il 3 e 24 febbraio e il 10 marzo. Il pubblico di Treviso, l'atmosfera dello stadio di Treviso è stata una spinta importante per raggiungere i risultati che sono stati raggiunti e di conseguenza è venuto naturale riconfermare questa sede. Cosa rappresenta per l'Italia? Ci gioca la squadra in questo momento migliore che abbiamo in Italia, per cui rappresenta molto. Un evento questo che arricchisce il patrimonio sportivo di Treviso, che è già per praticanti e risultati una sorta di capitale italiana dello sport. Rientra in quel cartellone di grandi eventi sportivi che richiamano la nostra città, che hanno una valenza certamente sportiva perché saremo tutti a tifare i nostri campioni dell'Italia, ma anche turistica per una città che ha questa vocazione sportiva da sempre e che continua a tirare questi grandi eventi. E poi niente di ufficiale, dietro le quinte Benetton e amministrazione stanno lavorando per ingrandire lo stadio. Si parla di una capienza futura di 10.000 posti che permetterebbe di ospitare anche la nazionale maggiore, non per i sei nazioni vincolato a Roma, ma per le partite amichevoli che gli azzurri disputano ogni novembre. Festa alla casa di soggiorno prealpina di Cavaso del Tomba per le 102 candeline di una ospite Pierina Favretto, la vediamo, nata a Ramon di Loria il 29 gennaio 1921 in una famiglia contadina, ultima di cinque figlie con un'infanzia trascorsa sempre nei campi. Per circa 40 anni ha custodito la chiesetta parrocchiale della Madonna della Salute a Ramon, facendo anche la catechista, diventando un punto di riferimento per tantissimi giovani della zona, ma anche per i nipoti a cui amava insegnare matematica. Dal 2021 è ospite della casa di soggiorno prealpina di Cavaso, oggi la festa con i familiari, amici e operatori per questo importante traguardo. Ci uniamo anche noi agli auguri e adesso andiamo nel bellunese. Ed è la cronaca in primo piano, qui torniamo a parlare della tragica morte dell'imprenditore di Tricchiana, Igor Schiocchett, precipitato con il suo elicottero sul greto del Meduno. L'abbiamo raccontato ieri, sono due le inchieste aperte per l'incidente aereo. La prima in mano alla procura di Pordenone, la seconda è stata disposta dall'Agenzia Nazionale per la Sicurezza del Volo. Igor era una persona molto conosciuta e molto stimata per la sua attività professionale, ma anche per il suo impegno nell'ambito dell'associazionismo. È una comunità sotto shock, quella di Borgo Valbelluna, in special modo il municipio di Tricchiana, dove Igor Schiocchett risiedeva e svolgeva la sua professione. La notizia della morte dell'imprenditore di 45 anni è piombata come un fulmine a ciel sereno nel pomeriggio di ieri. Igor Schiocchett stava rientrando a Tricchiana dal Pordenonesi assieme all'amico Alessandro Bogo. Entrambi erano a bordo del loro velivolo e Bogo lo precedeva. Cosa sia accaduto in aria è ancora impossibile da stabilire. Errore umano, guasto meccanico o malore, le ipotesi investigative della procura di Pordenone che sullo schianto del velivolo e la morte del pilota ha aperto un fascicolo contro i gnoti per omicidio colposo e altri reati minori. La zona dello schianto è stata mappata dai carabinieri del reparto investigazioni scientifiche anche con l'utilizzo di droni. Un'altra inchiesta parallela è stata avviata dall'Agenzia Nazionale per la Sicurezza del Volo che nella zona del disastro ha inviato un investigatore. Igor Schiocchett era un pilota esperto e aveva conseguito attestati di volo multidisciplinari. Conosceva bene il territorio alpino che frequentava ogni qual volta il lavoro gli concedeva una pausa. Io lo ricordo in particolare per aver anche lavorato per il comune nell'impiantatura di alcuni difficolti scolastici sempre con grande puntualità, professionalità ma lo ricordo anche e molti lo ricordano per le sue passioni in particolare quella legata al mondo del motoristico sportivo. Igor aveva creato una scuderia di rally con sede a Romano Dezzellino e con questa partecipava alle gare sportive l'ultima lo scorso novembre a Bassano. Il sindaco di Borgo Valbelluna in queste ore ha raccolto il sentimento unanime di incredulità dell'intera comunità per quanto accaduto. Ovviamente ci uniamo con un grande sentimento di affetto nei confronti della famiglia e di tutti i suoi cari. Crisi saffi, lo proseguono le azioni di mobilitazione. Oggi al termine della riunione a mestra del coordinamento sindacale regionale CGL Cisle Wildi categoria è stato proclamato uno sciopero di gruppo per mercoledì prossimo, 8 febbraio, con una manifestazione unitaria nella zona industriale di Longarone. Imprescindibile per i sindacati la difesa del sito produttivo di Longarone e indispensabile il coinvolgimento delle istituzioni e di tutto il sistema economico dell'occhialeria a sostegno della grave crisi che coinvolge 472 lavoratori. Torniamo a Belluno. Sono iniziati i lavori in diverse zone della città per ripristinare gli asfalti sulle strade interessate dei lavori di posa della fibra e che da oltre un anno versano in condizioni precarie. L'assessore Franco Rocondice per noi è un problema che resta aperto. Strade Colabrodo dopo i lavori per la posa dei cavi di fibra ottica a Belluno come nel resto dei comuni italiani i problemi sono all'ordine del giorno e riguardano anomalie riscontrate nelle operazioni di ripristino del manto stradale. Al posto dell'asfalto nastri di pseudo bitume rosa poco resistente alle intemperie e rischioso per automobilisti e pedoni. Ora dopo la pausa invernale il fermo delle aziende produttrici di bitume i cantieri per il ripristino degli asfalti sono ripartiti. Quello che è avvenuto nella posa di questa fibra è soprattutto il contratto nazionale che rinnovano vendetta insomma mette in difficoltà tutti i comuni di tutta Italia sostanzialmente hanno le stesse identiche problematiche perché si applica un contratto nazionale in cui questi hanno libero accesso alle strade la sera dicono che domani mattina si apre il cantiere e si apre il cantiere senza guardare le necessità dell'ente pubblico ma soprattutto dei privati. La fibra ottica è importante tanto più in una provincia come quella di Belluno ma sarebbe stato ancora più importante imporre la ditta affidataia degli interventi di operare secondo la diligenza del buon padre di famiglia. C'è modo e modo di lavorare e questi hanno lavorato nel peggiore dei modi possibili nel rispetto delle comunità locali. Stiamo intervenendo per ovviamente sistemare le situazioni che sono di criticità però c'è molto da fare. De venerdì si sta operando nei quartieri di Pedeserva, Fiammò, Inogaré, Baldenic e Cusighe. Nei prossimi giorni gli interventi riguarderanno altre parti della città. Da Palazzo Rosso sono partite a Raffica le diffide. In realtà il contratto dice si fanno le asfaltature quindi si sistema definitivamente la strada solo a opere finite ma quando finiscono questi sono due anni che sono in piedi. Il problema è stato portato all'attenzione di Anci e del senatore Luca De Carlo ma se necessario il Comune è pronto a rivolgersi anche alla presidenza del Consiglio dei Ministri. Si apre una nuova fase per il Comelico dopo che la soprintendenza al paesaggio di Veneta ha dato il via libera al progetto che dovrà unire Padola con il carosello scistico di Sesto Pusteria. È stata una partita lunga e per certi versi estenuante commenta la presidente di Confindustria Belluno Dolomiti Lorraine Berton che ora invita a concentrarsi anche sulle infrastrutture viarie perché dice Berton il futuro di un comprensorio così importante e delicato va affrontato a 360 gradi. La presidente di Confindustria auspica l'aggancio di questo progetto importante agli stessi giochi olimpici che sono un'opportunità per tutte le vallate della provincia. La targa antisemita che ricorda l'espulsione degli ebrei da Belluno e che dal 1938 campeggia nella sala giunta di Palazzo Rosso dietro alla seduta del sindaco resterà al suo posto. La maggioranza di centrodestra ha bocciato l'ordine del giorno presentato, lo ricorderete, dal consigliere storico Marco Perale col quale si chiedeva la rimozione della targa e la sua ricollocazione nel lapidario del museo di Belluno. Il sindaco De Pellegrin e la sua maggioranza si sono impegnati a valorizzare la targa affiancandone un'altra che ne spiegherà la storia. Una comunità rafforzata dalla fusione che ha portato alla creazione del comune di Alpago si è riunita per festeggiare l'inaugurazione della nuova scuola per l'infanzia. Costruita tra il 1958 e il 61, la scuola dell'infanzia Santa Maria Goretti oggi si presenta completamente rinnovata. Già era stata demolita e ricostruita nel 2011, ma dal 2016 ci si stava lavorando per renderla come l'hanno vista oggi le tante persone a corso per l'inaugurazione. Oggi inauguriamo un'opera di 2 milioni e 900 mila euro, un'opera che è durata nel suo completamento direi tanti anni, sei anni, però è un'opera importantissima per noi perché diamo il futuro ai nostri bambini e alla nostra comunità. Colorata, allegra dentro e fuori la scuola dell'infanzia è ora un piccolo gioiello. I lavori però proseguiranno al piano superiore, dove verranno realizzati gli alloggi per le suori missionarie che da sempre sono l'anima della scuola e che da quando la stessa fu ricostruita alloggiano in dei contagi. Una comunità che soffre i problemi delle comunità che ci sono in montagna, però attraverso i soldi della fusione siamo riusciti a mettere in piedi quest'opera che sicuramente darà un futuro e darà prospettive migliori a tutti noi. È tutto per questa edizione, vi lascio al meteo, grazie per averci seguito, arrivederci. Entra nel mondo l'olato, da oltre 40 anni un team di professionisti per migliorare la qualità della tua vita, centro del piede con servizi di podologia, laboratorio per la produzione di plantarie e calzature su misura. Ben trovati al meteo, alta pressione prevalente, il tempo si mantiene buono nella giornata di giovedì 2 febbraio. Ma vediamo insieme il dettaglio. Sul Veneto possibili foschie o nebbie fino al mattino sulle zone di pianura. Localmente potranno essere anche fitte e persistenti. A seguire tanto sole ovunque, probabili precipitazioni a carattere nevoso sulle Dolomiti, specie a partire dal pomeriggio. Temperature minime tra 1 e meno 2 gradi, massime tra 5 e 11 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, dove al mattino saranno possibili nebbie o foschie su pianura e costa, ma in rapido dissolvimento con il passare delle ore quando sarà decisamente più soleggiato. Temperature minime tra meno 1 e 4 gradi, massime sui 5 e 9 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove avremo un ampio soleggiamento, come ci mostra la nostra grafica. Il cielo sarà poco nuvoloso, locali nevicate sui settori di confine. Temperature minime intorno a 1 grado, massime sugli 8-10 gradi. Dal Meteo è tutto, vi auguro un buon proseguimento in nostra compagnia. Busti, tutori e protesi di arto personalizzati. Ortopedia e sanitaria Lolato, Atreviso e Montebelluna. Lolato, soluzioni per star bene.